ma spero di volare quello sempre e sicuramente è una macchina molto impegnativa ma devo dirti adatta anche la mia personalità prima di tutto perché amo il design amo l'aspetto moderno no e l'attualità quindi è un onore per me poter guidare la jeremy appunto disegnata da jeremy scott in edizione limitata quindi è davvero un onore e un piacere poterla utilizzare oltretutto condurla e guidarla in un'iniziativa bellissima perché poi questa questa smart sarà destinata all'asta benefica appunto e ricavato andrà alla fondazione laureus quindi per me è un grande onore e orgoglio poterla guidare ma è un lavoro speciale io amo molto tutto ciò che fa che è d'effetto e questa smart lo è proprio in tutto e poi devo dire che mi fa molto ridere uno perché sono alta 184 e quindi già di mio sono ingombrante ci mancavano le ali dietro e devo dire che l'abbinata può essere vincente fortissima infatti ho creato un look anche sulla mia persona questa sera sportivo ma giusto per la jeremy rappresenta la comunità rappresenta una macchina avvolgente moderna e giovanile quindi può essere secondo me la chiave giusta e la mia compagna di viaggio coccolata moltissimo e poi soprattutto ci sto e questa cosa è un elemento importantissimo per me grazie io volo via ciao